Grazie, buonasera. Porto i saluti dell'istituzione a me, dell'università e anch'io, nella scuola Ferrari, non sono un dico e quindi, purtroppo, in questo momento mi dovrei trovare in aula per incontrare gli studenti delle scuole superiori nell'anno di tutti iniziati da porte aperte, quindi, purtroppo, anch'io, per un'ora, lo trovo assentato. Sono molto contento che questa iniziativa sia organizzata nel dipartimento di sociologia e ricerca sociale. E sono contento che questa cosa sia organizzata con l'asservatorio del Bacani-Caucaso, perché credo che la collaborazione con loro sia veramente un valore aggiunto per noi che operiamo nel mondo dell'università sui debbi, sui cicli, sui cose che questo portano. Ma non è casuale la scelta del dipartimento di sociologia come se per questa conferenza, prima di tutto perché quello che oggi sarà l'oggetto dell'incontro è l'interno di comunicazione sociale. E quindi, questo è uno degli attivisti principali dei sociologi. E un altro punto di vista, perché questo dipartimento di sociologia mi ha proposto un'attenzione molto rilevanta sulle questioni dell'integrazione della terra, sulle questioni legate all'analisi dei conflitti. E quindi, insomma, i miei due colleghi parteciperanno, come discassano, dell'elcente, Mario Bianco, la Franca Pelloni, dimostrano questi investimenti. E quanto centrale sia il tema oggetto della conferenza per questi dipartiti. Ma c'è anche una questione più personale, perché sono contento che la cosa venga qui. Perché durante il conflitto, direi che sono stati alla facoltà dei sociologi, c'era un po' il modo, allora a facoltà dei sociologi, c'era un po' il modo in cui gli studenti, i universitari, che vorrebbero rendersi utili in quel contesto, trovavano una casa. E quindi, molte delle persone che vedo qui, insomma, provenivano, eh, più o meno da quel contesto, erano i miei colleghi di studio. Io non ho nient'altro da aggiungere. Ringrazio ancora una volta il Conservatorio per questa veramente importante occasione. E ci svegliamo che la nostra collaborazione possa veramente andare avanti, così come vuole, così sicurosa, come istante. Eh, grazie.